si allora com'è? com'è? sto a posto ciao parlo in francese no? no parlo italiano milanese e bergamasque come si chiama questo paese? no this house Zahida diciamo Zahida Zahida sull'Atlante c'è un fumo della Madonna l'unico che si trova bene qui è questo qui ciao non fermano le donne no no